Il Ministro Speranza Prato ha risposto a significativa delle strutture per il Covid dentro l'estate prima dose a tutti gli italiani. La Misericordia approva il bilancio e fa il punto sui servizi durante la pandemia, un anno a servizio della città. La Pietà saluta le suore che per 28 anni hanno prestato servizio alla casa di riposo. Tornano i concerti nel Chiostro del Duomo, tre serate dedicate alla musica da camera. Una buona giornata dalla nostra redazione. Bentrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Il Ministro della Salute Speranza ha prato per visitare il centro vaccinale Pegaso e le nuove ali dell'ospedale Santo Stefano. Strutture che in piena pandemia si sono rilevate importanti, ha detto Speranza. Ce ne parla Marco Manzo. Nel giorno in cui tutta Italia è zona bianca e decade l'obbligo di usare la mascherina all'aperto in determinati contesti, il Ministro della Salute Roberto Speranza è venuto a Prato per visitare il centro Pegaso e le due nuove ali dell'ospedale Santo Stefano, allestiti per fronteggiare la fase più acuta della pandemia. Il centro Pegaso è stato strutturato per ospitare pazienti Covid meno gravi ed è divenuto poi anche centro vaccinale. Le due nuove ali dell'ospedale hanno avuto le stesse funzioni di degenza e vaccinazione. Penso che si sia data una risposta davvero importante e positiva. Nel giro di poche settimane, in un momento complicato per tutti, in tutto il paese, in Toscana e in modo particolare qui a Prato, si è riuscita a dare una risposta all'altezza che credo sia servita moltissimo nelle ore, nei giorni dell'emergenza e credo servirà ancora in futuro perché le cure intermedie, il rafforzamento della rete territoriale sono un obiettivo che resta anche al di là della stagione del Covid. Quindi sono davvero contento, ho avuto anche l'occasione di parlare con tante persone che stanno facendo il vaccino proprio oggi. Queste persone sono consapevoli di quanto conti questa campagna di vaccinazione e di come sia l'arma decisiva per aprire una stagione diversa. Il ministro ha aggiunto che l'obiettivo concreto è vaccinare tutti gli italiani che lo vogliono con la prima dose entro la fine dell'estate, invitando comunque alla cautela per il rischio proveniente soprattutto dalle varianti. Il governatore Gianni ha fatto il punto sulla vaccinazione in Toscana. Oggi è, glielo ho detto, il regalo che ci sentiamo nella sua visita, supereremo il milione di vaccinati con seconda dose nella regione. Siamo vicini a poche migliaia, ai due milioni di vaccinati con la prima dose e siamo vicini, lo raggiungeremo mercoledì e giovedì, all'obiettivo dei 3 milioni vaccinati complessivamente. L'obiettivo dell'80% dei nostri abitanti che possa essere vaccinato entro la fine di settembre è davvero raggiungibile. Certo, più vaccini ci sono e prima ce lo facciamo. Al centro Pegaso dal dicembre 2020 all'inizio di giugno sono stati ricoverati 567 pazienti, nessuno dei quali è deceduto e solo 11 hanno avuto bisogno di un trasferimento al Santo Stefano per aggravarsi delle condizioni. A Prato sono una settantina pazienti Covid trattati con gli anticorpi monoclonali, tutti guariti senza particolari criticità. Sono 33 nuovi casi di Covid registrati oggi in Toscana su oltre 4.500 test effettuati, nessuno dei quali in provincia di Prato. I dati sono stati anticipati sui social dal governatore Eugenio Gianni in attesa del bollettino regionale. Rispetto a ieri in Toscana i nuovi positivi rilevati sono sostanzialmente uguali ma a fronte di un numero di arno inferiore di tamponi. Pertanto il rapporto tra nuovi contagi ed esami è risalito passando dallo 0,3% di ieri allo 0,7% di oggi. La misericordia di Prato approva l'unanimità il bilancio 2020. È stato un anno a servizio della città e della popolazione, ha evidenziato il proposto Gianluca Mannelli nella sua relazione. Nel periodo più duro della pandemia infatti l'associazione ha garantito le attività. Oltre 6.000 le uscite con medico a bordo. Vediamo. Un anno in prima linea a servizio della città e della popolazione. Il proposto dell'arci confraternita della misericordia di Prato Gianluca Mannelli definisce così l'impegno messo in campo dall'associazione nel 2020 durante i difficili mesi della pandemia. Nella sede di Via Galcenese si è svolta l'Assemblea Generale della Misericordia convocata in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo 2020 e in sede straordinaria per l'approvazione del nuovo statuto in adeguamento alla riforma del terzo settore. All'appuntamento erano presenti oltre un centinaio di confratelli e consorelle. Come da tradizione l'appuntamento si è aperto con la relazione del proposto che ha fatto il punto sulle attività svolte nell'anno precedente. Tra le tante attività ricordiamo i servizi con medico a bordo oltre 6.000 in un anno e i servizi sociali circa 120.000, quelli funebri 1.630 aumentati di 271 e poi le iniezioni gratuite e la misurazione della pressione. È stato un anno difficile, un anno dove i servizi da Covid sono particolarmente aumentati, quindi un periodo dove il nostro impegno è stato anche maggiore e soprattutto sono state messe a rischio anche la salute dei nostri operatori. Quindi io per questo ringrazio tutti quanti che hanno consentito questa mole di lavoro, questa mole di servizi. Il 2020 si è chiuso per la misericordia con il segno più e il bilancio è stato approvato all'unanimità. Seppur in un periodo difficile la misericordia ha continuato ad investire, a fare investimenti importanti per la città tutta e mi riferisco in modo particolare all'acquisizione delle quote dell'Istituto Santo Stefano che da giugno dell'anno scorso è passato tutto al 100% di proprietà dell'Azion Fraternita della Misericordia di Prato. Per 28 anni hanno prestato servizio alla Casa di Riposo della Pietà. Sabato scorso la comunità parrocchiale ha salutato le suore dell'Ordine delle Ancelle e della Sacra Famiglia a cui è stata donata una riproduzione della Madonna di Santa Maria della Pietà. La Pietà saluta le sue suore con una messa celebrata da Monsignor Giovanni Nervini. Suor Pasqua e Suor Isa torneranno in Sardegna dopo 28 anni passati a Prato al servizio degli anziani. Ricorderemo che tutti siamo nella vigna del Signore contenti di lavorare non secondo i nostri criteri ma le sue misteriosi istruzioni che a volte prevedono tagli e interruzioni onestamente incomprensibili ma salutari e sempre portatori di benedizioni e di grazie infinite. Le sorelle mi hanno raccontato, le ha colpite la grande accoglienza della gente. Ci sono dei legami che durano proprio 28 anni, ci sentiamo ancora per telefono, vengono a trovarci anche figli o nipoti di ospiti che abbiamo avuto vent'anni fa, anche 28 anni fa, questo significa che il senso di famiglia, che il nostro carisma è passato in qualche maniera. Per la casa degli anziani sono sicuramente state proprio l'anima liturgica, l'anima religiosa, hanno animato tutto quello che era la sfera religiosa della casa Santa Maria della Pietà per cui veramente oggi perdiamo qualcosa di veramente importante, non solo per la casa chiaramente ma anche per tutta la parrocchia. La vita consacrata è un segno molto forte della presenza di Dio in mezzo a noi attraverso queste sorelle che veramente donandosi in maniera veramente possiamo dire quasi eroica, veramente sono state per noi un segno molto importante della presenza di Cristo in mezzo alla comunità. tre concerti di musica da camera nella suggestiva cornice del Chiostro del Duomo prende via mercoledì la seconda edizione della rassegna Ritorno alla Vita. Dopo il successo della prima edizione tornano i concerti nel Chiostro del Duomo. L'appuntamento con Ritorno alla Vita per il 30 giugno, il 7 e il 14 luglio. In programma tre concerti di musica da camera nei quali si alterneranno artisti già fermati nel panorama musicale internazionale e giovani interpreti tutti da scoprire. Direttore artistico della rassegna è il pratese Alberto Bocini. Tre appuntamenti, tutti e tre alle 21.30. Questi tre appuntamenti vedranno un duo con trabbasso e violoncello di Bernardi Provenzani, mercoledì 30. Poi il 7 ci sarà un quartetto, il quartetto Aliot. Si chiude la rassegna il 14 con il quintetto vocale, il quinto elemento. L'intera piccola rassegna sarà un grande viaggio in tre secoli di storia della musica, dal barocco, mitteleuropeo, tedesco di Johann Sebastian Bach, a quello italiano di San Martini, andiamo dal classicismo di Haydn a quello del gigante Beethoven per arrivare appunto a musica sacra con delle puntate nella musica jazz ed autore. Ma non è tutto, durante le tre serate non mancherà un omaggio a Dante Alighieri nel settecentenario dalla sua scomparsa. Prima di ogni concerto, Daniele Grigio, attore e direttore del Teatro Borsi, leggerà infatti il canto 1 della Divina Commedia. Il biglietto dei concerti costa 10 euro e può essere acquistato online sul sito del Teatro Borsi, in alternativa al teatro di Via San Fabiano o la sera del concerto, salvo disponibilità. Ritorno alla vita, lo ricordiamo, è promossa dal Teatro Borsi con la collaborazione della Diocesi e il contributo del Comune, rientra nel cartellone della Pratoestate 2021. Una grande soddisfazione e liberazione, un ritorno alla vita vero e proprio, non soltanto per noi artisti ma per tutti. È stato un anno durissimo, durissimo e in mezzo a mille difficoltà siamo riusciti a garantire la seconda edizione di questa rassegna nel Chiostro del Duomo che ha avuto l'anno scorso un successo incredibile. Speriamo che sia di buon auspicio questo ritorno alla vita e che non sia momentaneo come lo è stato l'anno scorso. Passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buongiorno e ben ritrovati con le previsioni mete a cura del Consorzio Lamma. Ancora condizioni di alta pressione sul bacino del Mediterraneo, tempo stabile anche sulla nostra penisola, tipicamente estivo. Sono condizioni queste che caratterizzeranno tutta questa settimana. La perturbazione invece che intravediamo dal satellite sul Golfo di Biscaglia tenderà ad avvicinarsi all'Europa centrale, alla Germania, lambirà l'arco alpino mentre continuerà a prevalere il sole sulla nostra regione. Infatti per il proseguo di oggi poche nubi e probabilmente oggi raggiungeremo il picco di temperature per questa settimana. Sono previsti 35-37 gradi nelle pianure dell'interno e complici anche una debole ventilazione dai quadranti meridionali con mari tuttavia calmi o poco mossi. Da domani invece affluirà aria più fresca dai quadranti occidentali che porterà un sollievo da un punto di vista termico, calori di 3-4 gradi delle temperature e quindi non oltre i 32-33 gradi, venti appunto da sud ovest che tenderanno a rinforzare nel pomeriggio e porteranno un po' di nubi lungo la costa e sulle zone centro-settentrionali. Comunque come possiamo vedere dalla grafica nubi di poco conto. È tutto, grazie per l'attenzione e una buona giornata. Ed è tutto anche per noi, il telegiornale termina qui, l'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20.30. Vi ricordiamo inoltre alle 17 in diretta dalla Badia di San Salvatore a Vaiano, la recita dei rosari a seguire la celebrazione della Santa Messa. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.